Cercando su Google Next Generation Tax accediamo al sito https.ngtax.it in cui oltre a tutti i dettagli di questa misura troviamo anche un calcolatore in cui possiamo inserire i dati relativi al valore catastale della nostra prima abitazione i dati relativi ad altri immobili, quindi a eventuali seconde case in cui andremo sempre ad inserire la rendita catastale per esempio 310 euro, poi bisognerà schiacciare più al fine di aggiungere i depositi titoli e le giacenze bancarie, oltre agli altri beni da cui vengono esclusi autoveicoli in questo modo noi otterremo quanto paghiamo nella situazione attuale e quanto pagheremo con la nostra proposta di legge la maggior parte dei cittadini arriveranno a non pagare niente poiché questa aliquota si applica solamente a patrimoni superiori a 500.000 euro per cui per il ceto medio ci sarà un grandissimo risparmio per cui per il ceto medio ci sarà un grandissimo risparmio per cui per il ceto medio ci sarà un grandissimo risparmio